Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G, ed oggi parliamo di un microfono USB da podcast streaming che mi ha impressionato in maniera decisamente positiva, e cioè l'SPC Gear SM950T. C'è una cosa che accomuna tutti i microfoni a condensatore USB al di sotto di una certa fascia di prezzo, e cioè rinunci a qualche feature per avere un prezzo minorato e magari una qualità del suono e una qualità costruttiva soprattutto che non è proprio delle migliori. L'SM950T da questo punto di vista è decisamente diverso. Come state vedendo dall'unboxing, all'interno della confezione troviamo il microfono, uno shock mount decisamente bello da vedere, e non ci posso fare nulla, a me l'accostamento di rosso e nero piace davvero tanto, un filtro antipop che si mette intorno alla capsula del microfono, e lo fa sembrare una guardia cosacca, sapete, l'avete presente? Sì, forse state vedendo adesso un'immagine più o meno questi. Un treppiedi totalmente in alluminio regolabile con piedini antiscivolo gommati, e un cavo USB da 1,80m. Le caratteristiche tecniche sono in linea più o meno con tutti gli altri microfoni USB. Un peso di circa un chilo e cento grammi, ma la cosa che dovete tenere in considerazione di questo microfono è che avendo praticamente un pattern unidirezionale cardiode, significa che voi dovete parlare qui nella capsula, e significa anche che è un microfono fondamentalmente indirizzato a chi vuole fare streaming, chi vuole fare podcast, ma non è il classico microfono che costa non un occhio della testa e dà una qualità decisamente bassa. Adesso vi farò sentire dei test, perché vi ripeto, sto microfono mi ha impressionato, e mi raccomando, mettete le cuffie, ci saranno vari test, quindi prestate molta molta attenzione e ci vediamo alla fine per le conclusioni. Ed eccoci qui al test audio dell'SPC Gear SM950T. Il primo test che andremo a performare è il classico test da streaming. Io praticamente sto parlando con voi come se fossimo in un podcast, sto praticamente esprimendo la mia opinione riguardo magari le case di marzapane. Le case di marzapane sono decisamente belle da vedere e buone da assaggiare. Il secondo test che andremo a performare è quello della spanna. Io sono circa 20-25 cm più o meno dal microfono e sto parlando dritto nella capsula. Vi ricordo che il microfono ha un pattern unidirezionale cardiode. Che cosa significa? Riesce a prendere il suono in maniera più chiara e precisa dalla parte frontale. E adesso vi faccio vedere il test da due spanne. Essendo questo un microfono a condensatore, la capsula rimane sempre accesa. Quindi da questa distanza dovreste sentirmi bene, ma non benissimo. Poiché il microfono andrà a prendere anche il riverbero di tutta la stanza. Ora sto parlando di lato al microfono perché essendo un pattern unidirezionale dovrebbe riuscire a eliminare, non completamente, ma in buona parte i suoni che provengono dalla parte laterale. Ora, grazie al pratico treppiedi, io sto parlando praticamente nella parte posteriore del microfono e dovreste sicuramente sentire la mia voce in maniera molto meno precisa. E adesso sto provando l'effetto di prossimità del SM950T poiché l'effetto di prossimità è quello che vi fa sentire più vicino a chi parla e i microfoni da podcast, i microfoni che sono indirizzati a chi vuole fare streaming devono assolutamente fare questa cosa per bene. Adesso vi faccio sentire un po' di rumore bianco del microfono. Al massimo potreste sentire poco 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 le ventole del mio PC ma in maniera decisamente lieve. Per cui cominciamo. Adesso facciamo un test molto divertente. Io sto scrivendo sulla mia tastiera meccanica che ha dei cerri MX rossi e ho il microfono indirizzato verso la mia bocca quindi dovrebbe riuscire a rigettare i suoni nella parte posteriore. E adesso dato che il microfono è tutto in alluminio e ha uno shock mount integrato proveremo un pochettino a dare dei colpetti qui e lì per vedere quanto sia refrattario alle vibrazioni. Attenzione! Essendo tutto il microfono in alluminio la cosa che a me fa paura sono le frequenze risonanti questo perché essendo il metallo un ottimo conduttore di suono potrebbe in effetti avere qualche frequenza risonante che va a infilarsi nel corpo del microfono e quindi vi fa sentire perché questo bene o male il suono delle risonanti ma il microfono comunque ha un ottimo shock mount lo sto anche picchiettando voi al massimo sentite il tuc 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 del mio dito non è che sentite tipo le vibrazioni. Adesso dato che abbiamo il filtro antipop attivo proviamo un pochettino le esplosive Peppino e Paperino potevano puffare le polpette di pinuccia. Proviamo adesso anche le sibilanti 67 sommelier sommeliavano 67 sassofoni così almeno potete capire se il filtro antipop riesca a isolare sia dalle sibilanti che dalle esplosive. Adesso è giunto il momento che tutti aspettavate proviamo uno strumento musicale direttamente nel microfono. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due Blue Yeti, ho provato Tonor, Fifine, Trust, ho provato vari microfoni XLR, uno Shure SM7B, Blue Ember, vari microfoni per canto. Questo microfono USB praticamente riesce a avere una qualità superiore rispetto alla media dei microfoni che ci sono al momento sul mercato. Cioè, se voi praticamente al momento mi chiedeste meglio un Elgato Wave, meglio un Blue Yeti o meglio un SM950T. Raga, questo. Voi avete sentito precisamente dai test che riesce ad esaltare le frequenze della voce che devono essere esaltate. Cioè, essendo un microfono da podcast e da streaming, quando io parlo in un podcast o in uno streaming, voglio che la persona che guarda lo streaming si senta vicina a me. Ha un buon effetto di prossimità, ha una buona equalizzazione, un'ottima equalizzazione, se posso essere sincero al 100%. Non c'è uno sbilanciamento verso gli alti, verso i bassi o verso i medi, è tutto ben bilanciato. Tanto ben bilanciato che, come avete sentito, è possibile anche registrare uno strumento. La chitarra che avete sentito è stata praticamente registrata in flat, non è stata fatta alcuna equalizzazione. Quindi io sono estremamente impressionato da questo microfono e sono decisamente contento con i risultati che si possono avere. Al momento si trova anche su Amazon, al di sotto dei 100€, io credo di averlo trovato a 75€, sinceramente parlando, per la qualità che offre sonora, per la qualità costruttiva che offre e per la versatilità di questo microfono, credo davvero che vi convenga spendere un po' più di soldi del classico 50€, arrivate a 75€, lo trovate su Amazon e non ne rimanete delusi. Io mi aspettavo, vi ripeto, il classico microfono molto, non cattivo nelle performance, assolutamente, il classico microfono molto mediocre. Questo non è affatto mediocre, siamo al di sopra del buono, ma seriamente parlando, è davvero un microfono che mi ha impressionato e mi ha colpito. Per cui, SM950T da parte di SPC Gear, c'è un link in descrizione se volete andare a dare un'occhiata a questo prodotto e voleste magari acquistarlo. Non andrete a pagare di più, ma supporterete il canale, per cui grazie. E voi cosa ne pensate? Sia a livello estetico, perché poi guarda quanto è bellino questo shock mount, troppo bellino. Sia a livello estetico che a livello di performance è un pezzo, un accessorio hardware che a me piace davvero tanto. E sono convinto che lo userò se dovessi qualche volta trovarmi fuori casa e dovessi portarmi un microfono che comunque ha delle ottime prestazioni e oltretutto sembri elegante agli occhi degli altri. Grazie mille per aver seguito il video, ci vediamo ad una prossima recensione o a un prossimo video, o quello che vorrò fare, non lo so. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, centrare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. In descrizione, link affiliato per il microfono e il link al sito di SPC Gear se volete andare a dare un'occhiata ad altri prodotti da gaming. Per cui, grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, belli! Ciao! Ciao!